non abbiamo neanche un termite se corriamo la uccidiamo magari vaffanculo non è successo eh eh valchyr stava mettendo sparato non l'ho presa però state venendo da me o ah ok occhio occhio via enrico via a quello con i bana dove cazzo è e dobbiamo passare di qua ci vediamo dall'altra parte si ho visto si 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 no la puoi attivare non è automatica devi schiacciare r1 io mi sa che vado dentro eh non hai più il disinnescatore dio porco mi ha sparato attraverso il muro va aiuto eh spacca il muro spacca il muro bravo becco difensori neutralizzati vittoria per gli attaccanti eh rilascio il disinnescatore così non piazzano o meno mute o bandit dov'è che e se si mettono sopra che poi possiamo usare montagna o no o sotto no dov'è che era appena entri in palestra eh appena entri in palestra eh appena entri in palestra ah si in montagna è uno qui dove intendi quello che ieri abbiamo giocato eee rinforzi completati ah cazzo il tunnel ah ok la squadra d'attacco ha trovato una bomba proteggetela porco dio twitch maledetta ricarico siii rimangono 10 secondi ancora 5 secondi pure ricco la squadra d'attacco ha trovato una bomba sono venuto a coprire pistola qua muro in sicurezza c'è il giallo no che pirla ricarico l'arma qua mi sa pulendo e non così misu non insieme La squadra d'attacco ha trovato una bomba Ho preso qualcuno con il... No, l'ho sceso uno Correte, correte in garage Ho preso uno e uno ha una scuola di vita No, l'ho ucciso Lascia metà vita O l'altro cos'è? Difendete l'area e proteggete le bombe Eh, se vi spostate lo faccio Volete doppio? Dai faccio doppio La squadra d'attacco ha trovato una bomba Venga, venga Ah Si, io ne ho una qua Ah, l'esterno, io pensavo in bagno La squadra d'attacco ha trovato una bomba Prepararsi all'azione nemica Ok Ok Stai combinando Ma da dove cazzo arrivano sti bastalli? Mi ha preso uno C'è montagna su di sopra A culei pronti Enrico Bocca Bocca Allora B è sotto controllo A non troppo Ah sì dai ci sono io e ci sei tu Mina, mina, mina Perfetto Ok uno si nasconda adesso L'ho preso un altro Ultimo nemico rimasto Ah mi ha preso Ah Certo di scovargeria Catto Dobbiamo non è che c'è la prossima No non posso arrivare a oro 4 No dai cazzo anch'io devo partire almeno oro 2 Se ne perdi 4 poi ti avrò 3 Io sono partito a oro 3 Ho rinforzato la parete Prima cosa di pagare questo Posiziono gli acune Ok La squadra d'attacco ha trovato una bomba Proteggetela Ancora 10 secondi Ancora 5 secondi Nuovo fit video operativo La squadra d'attacco ha trovato una bomba Prepararsi all'azione nemica Sono passata io Sì Sì Hai preso Tatcher e Ash Ah qua ci sei già tu che è L'ultimo nemico rimasto Ci penso io Ricarico copritemi Ho tirato giusto così per sicurezza Devo ricaricare Non si sa mai Tanto quando mi doppano mi shottano sempre in testa La porta è stata barricata È qua È qua È qua È qua Oh Poi pensavo fosse ancora lo spawn On